Buona giornata della Nord, oggi video per quanto riguarda il meteo del mese di giugno. Oggi utilizzo questo zuccheri, logicamente è ricoperto d'oro. Chi pratica e conosce questi mesi sa che hanno un valore diverso proprio per il materiale con cui ho utilizzato, che viene creato e l'utilizzo è totalmente diverso rispetto ai precedenti e nella pratica si conoscono gli usi di certi minerali. Allora, iniziamo dal 2 di giugno. Che tempo c'è il 2 di giugno? Dovrebbe essere un tempo stabile. Bel tempo più che altro, può esserci qualche nuvola, però per lo più bel tempo. 9 giugno Variabile Questa c'è quindi il vento, queste giornate tra la primavera e l'estate. Poi abbiamo 16 16 giugno Sempre variabile 23 giugno Bel tempo E chiudiamo col 30 giugno Quindi giugno non sarà molto, come tempo non sarà molto brutto, sarà un tempo più che altro caratteristico anche degli anni precedenti, può esserci un po' di pioggia, così io parlo del nord. Qualche temporale può esserci, però tutto sommato, un clima abbastanza stabile. Buona giornata Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti